Dove diavolo siete finiti? Oh, che strano. Ehi! E dai ragazzi, sentite, ne ho abbastanza! Questo gioco del silenzio non mi piace per niente! Ciao, Saman! Mi stai cercando? Non credo che ti servirà a cercarmi con lo sguardo, Saman. Io! Potrai vedere soltanto quello che vorrò io. E ho parecchio da mostrarti. Cosa succede? Apri gli occhi. Oh mio Dio! È davvero bellissima, non trovi? Cosa ci fa dei buoni? Una splendida ragazza che fai male. Perché? Perché? Credi che abbia la minima idea di cosa l'attende? Credi che questi siano stati gli ultimi momenti felici della sua vita? Perché mostri queste cose? Perché stai guardando? Giuseppe! Non ti fa sentire! Mio Dio, che cosa hai fatto? Ora ti darò dieci secondi. Noni... Mio Dio, Berto, Berto... Mio Dio, Berto, Berto! Eh! Oh oh! Oh... Oh! Oh! No! No! E' maglini in giro, zianza e maniglia! No! 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 Oh, cazzo, cazzo! Oh, cazzo!